allora allora noi tempo addietro abbiamo spippolato un po di consoline retro signori un po di consoline retro che abbiamo visto abbiamo provato abbiamo testato ve l'ho fatta vedere questa sera andiamo a vedere qualcosina legato sempre a quelle console o meglio andiamo a vedere una di quelle console che abbiamo visto ma proprio una di quelle console che abbiamo visto perché se vi ricordate se vi ricordate una delle più sportive gianti che abbiamo visto era la mio mini plus ve la ricordate adesso andiamo a vedere che siamo attrezzati però adesso creeremo un po di confusione ma va bene così che è questa qui come sempre ragazzuoli vi ricordo che c'è il linkino dove potete vedere sia queste console che altre perché poi dal link di match di eye che è questo qui ci stanno sia ste mio mini plus che tante altre la mio mini plus devo dire che è una di quelle che mi garba di più insieme al tramvernic insomma ce ne stanno un po anche perché è discretamente compatta e molto compatta rispetto alla mio mini che è proprio quella piccolina la mio mini plus è stato il giusto upgrade ma un'altra cosa non so quanti di voi sono infognati con queste console insomma stanno lì a spippolarci tanto però come sapete nella mio mini sia nella prima versione che era la mio mini quella piccolina ci fecero un sistema operativo in più cioè l'onion os che è un sistema operativo che ti va a aggiungere parecchie cose molto interessanti si può fare anche con la mio mini plus una cosa che adesso andiamo a vedere è la mio mini plus con l'onion os ora vi parlo sempre del ce l'abbiamo qui infatti abbiamo il doppio ora abbiamo dello stesso colore quindi è un po complicato questa ce l'ha ancora la pellicolina però adesso le andiamo ad accendere così vediamo le differenze allora praticamente l'onion os è un sistema operativo che appunto aggiunge parecchie cosette tra cui anche tanti emulatori diversi che normalmente non sono supportati al sistema operativo base della della consolina ma anche tante altre cose cioè union os è molto molto figo ora ve lo dico subito è necessario perchè sul sito potete comprare la consolina normale con anzi adesso andiamo direttamente a vedere faccio prima vedere così almeno spippolando e chiacchierando insieme andiamo a vedere un po' il tutto facciamo così questa la mettiamo qua ok e vediamo se riusciamo a facciamo una panoramica una panoramica questo qua il sito voi faccio vedere questa qua è la mio mini plus con naturalmente come sempre come abbiamo visto l'altra volta c'è la possibilità di scegliere diverse tipologie di sia a livello estetico cioè la purple che è quella che abbiamo noi cioè la transparent black la white e la grey ma questa è solo una questione estetica quella che vi pare poi naturalmente potete scegliere potete scegliere di averla con vari tagli di di schede sd io come sempre vi ricordo che i giochi lì sono bons nel senso sono inseriti ma vi ricordo che per la legalità eccetera questa è sempre la parentesi canonica che poi si dice dovreste possedere le copie originali dei giochi poi loro vi danno 128 giga di giochi per dire e voi così c'è la possibilità di scegliere quella da 32 64 e 128 ma allo stesso tempo adesso vedete che hanno aggiunto anche la possibilità di prendere quella da 128 con l'union os che è questo altro sistema operativo grazie a bollo grazie per i set grazie per la resa buona e quindi questa sera torniamo a parlare della mio mini plus appunto per vedere il sistema operativo che è union os ora come detto sempre parentesi in generale è necessario per forza vedete la differenza cioè la differenza è di 10 dollari in realtà c'è per forza la necessità di prendere allora no signori nel senso se voi siete un po' manettoni tra virgolette union os ve lo potete installare tranquillamente voi anche sul sito di match di ai c'è il tutorial per installare union os quindi non è che sia una cosa complessissima ma io so siccome tanti di voi che hanno visto se live che seguono le live e anche poi video che vi riporto sul canale cercano una consolina che sostanzialmente sia già pronta all'uso perché molto spesso l'utilità di queste console qual è quella che qualcuno la vuole prendere per giocarci qualche retro game senza starci a smanettare troppo quindi giustamente c'è anche chi magari dice vabbè ma io non è che la voglio più avere poi installarmi un altro sistema operativo quindi adesso match di ai vi da anche la possibilità di avere la schedina sd con 128 gb quindi come questa qua la differenza è di 10 dollari li varie quei 10 dollari di differenza secondo me valutate voi valutate voi adesso andiamo a vedere le differenze io vi dico di sì ognuno s ci sta poi questo naturalmente detto se non volete perderci tempo perché come detto potete prenderla con quell'altro prendete un'altra scheda sd ci installate ognuno s c'è come detto il tutorial anche su match di ai oppure andate semplicemente sul sito di ogni o no s seguite la guida potete anche fare una cosa andate sul sito vedete se ve la sentite la guida se siete interessati ce la posso fare o meno prendete quell'altra normale cambiate se volete provare se volete smanettare comunque non è una cosa che c'è bisogna essere ingegneri informatici per farla però come detto loro vi danno anche la possibilità di farlo vi ricordo tra l'altro che indipendentemente da tutto su match di ai signori ci stanno una marea di altre consoline cioè ce ne stanno veramente tante 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 quindi vi ricordo che c'è anche il codice sconto qta quando voi andate a fare l'acquisto se inserite qta c'è il 17 per cento di sconto quindi su tutte le console del catalogo ma parliamo dalla mio mini perché appunto c'è sta cosa del dell'union os che vi voglio far vedere quella dell'union os si è solo da 128 giga non è tanto per il fatto che l'union os pesa tanto ma per il semplice fatto che su onion os ci sono molti più emulatori rispetto a quelli del sistema operativo base quindi avendo molti più emulatori ci metti pure più giochi insomma quindi sostanzialmente conviene il taglio più grande perché ci puoi mettere più roba però come detto nulla toglie che vi potete fare pure la schedina anche perché la cosa positiva della mio mini plus qual è che la schedina contiene il sistema operativo quindi questa mio mini plus e questa sono identiche se io caccio le schedine da queste due e le inverto inverto tutta la la consola quindi non ha come ad esempio le unbernic che hanno due memorie ma questa qui ha tutto dentro la scheda sd quindi voi potete prendere un'altra scheda sd metteci ognuno s fare quello che vi pare insomma potete clonare la scheda e cambiarci cose potete fare tutto quanto quello che volete perché è tutto all'interno della stessa scheda quindi in realtà se fate qualche cambiamento io consiglio sempre di farlo su una nuova scheda perché se volete farlo sulla stessa rischiate che poi se non funziona qualcosa se non va insomma cercate di farlo sempre però la comodità è appunto quella di avere magari un'unica console una sd per il sistema operativo normale una per onion os poi ve le fate voi da ci potete mettere pure quelle da più giga da meno giga insomma le potete fare a combinazione vostra e quindi come detto queste sono le varie combinazioni c'è la versione normale con il sistema operativo di base e quella con onion os adesso andiamo a vedere un pochino di differenze poi ci sono anche gli accessori ho preso questi qua perché sono comodi per portarle in giro perché sono rigide e quindi se la volete portare in giro invece di metterla in tasca che potrebbe graffiarsi anche se all'interno della confezione non ve l'ho fatto l'unboxing però come sempre anche perché già la sto usando quindi all'interno della confezione c'è il libretto di istruzione che però poi vi dico ecco e il vetrino da metterci sopra poi la cosa la pennetta usb per poter mettere la sd al computer perché vi ricordo che i giochi indipendentemente dai giochi che ci stanno voi ce li potete mettere togliere e fate quello che volete una cosa un appunto che vi dico che poi in realtà magari farò notare anche i di ai che poi è relativa come cosa il libretto è relativo sostanzialmente al sistema operativo base quindi vi consiglio sempre di andare a vedere magari sul sito di onion se prendete quella con ognuno s perché vi fa scoprire molte più cose anche se a questo ci va incontro il fatto che all'interno della console c'è una guida ad ognuno s mo l'andiamo a vedere preparo l'altra camera e vi faccio vedere un pochino le due consoline in azione ora ci regoliamo un pochino con la luminosità varia ed eventuale e spippoliamo un pochino grazie valmos grazie per i 43 mesi grazie mille allora vediamo se trova la freccetta prima di tutto poi facciamo così ok allora aspettate che la metto facciamo così e cosa ok questa togliamo e ci spippoliamo qui con ora c'è qualcosa che può dar fastidio sì una delle luci quindi mo la togliamo defenestriamo un attimo una luce tanto tutto sommato non credo che ci serva più di tanto questa luce qui quindi facciamo in questo modo così forse non ci da fastidio ok i giochi li devi mettere tu nella console ci sono già i giochi ci sono già con quella che vi mandano come detto adesso che le vedete queste sono esattamente come sono arrivate quindi tutto quello che c'è già c'è poi voi potete cambiarli perché naturalmente non chiedete i giochi ci sono perché diciamo i video bonus cose del genere i giochi ci mettete voi giochi ci mettete voi ci sono una marea di di robe già dentro ma magari cose che vi interessano giochi in italiano eccetera eccetera questa è quella normale con il sistema operativo suo questa c'è ancora la pellicolina che ho lasciato per il semplice fatto che se magari poi le mettevo così non ricordavo qual era quindi l'ho lasciata in questo modo ora cerco a questa è anche brandizzata con mcdi perché il sistema operativo l'hanno installato loro però come detto potete farlo anche voi allora per quanto riguarda l'estetica poi per i menù naturalmente sono entrambi personalizzabili ma vi faccio vedere un pochino nella zona lato emulatori allora aspettate vorrei cercare di trovare un inquadratura che si veda decentemente un po tutte e due qualora fosse possibile faccio così se vede meglio sì quindi mi serve qualcosa a mettere qui dietro mi serve qualcosa a mettere qui dietro che ci mettiamo arrivo qualcosa per appoggiarli siccome non c'è poi ci mettiamo il cappellino di twitch tra l'altro non so perché io abbia questa cosa ma va bene facciamo così così li appoggiamo in questo modo che si vede un pochino meglio vediamo tac lo usiamo come poggiarobbe grazie rewind grazie per il 69 grazie mille per la resab cerchiamo di mettere anche un pochino a fuegos ok ok e allora andiamo a vedere in game e console in questo caso allora abbiamo vedete allora qui le pagine sono due qui le pagine sono sei quindi potete notare la differenza nel quantitativo di emulatori vabbè qui abbiamo l'arcade il famicom game boy mega drive neo geo main game boy advance vedete super famicom ce ne sono comunque abbastanza eh non è che non si arriva anche a fino a ps1 e si è attivato un secondo microfono dite ah si perché sta attaccata allora scusate scusate vediamo un attimo se riesco a toglierlo ah e qua gattacicova no riesco credo perché voi sentite doppio l'audio giusto eh scusate non avevo letto che mi avevate avvisato si perché giustamente l'ho attaccata alla scheda di acquisizione che di solito usiamo per giocare quindi ok adesso dovrebbe essersi tolto il doppio audio e quindi queste qua sono le gli emulatori che ci sono sul sistema operativo eh base non onion os tra l'altro sta console è una figata cioè o l'uno o l'altra se ci avete pure questa o quello che è una figata vabbè a parte ciò eh quindi poi naturalmente andate selezionate la piattaforma adesso fa un check dei giochi in questo caso per il game boy già ce ne sono 716 eh game boy e game boy color li ha messi insieme e vabbè poi qua andate a spippolare ci avete i vostri giochi eccetera eccetera vi faccio vedere un pochino anche all'interno per eh capire un attimo il tutto qui come potete notare questo è con onion os già abbiamo cose diverse cioè la mia cioè non diverse quelli che stanno qua ci stanno tutti dall'altro lato in più ci stanno anche altri eh emulatori come l'amica l'amstrad sempre arcade l'atari 2006 c'è l'atari links 7800 eh c'è il coleco vision il commodore DS game boy i vari game boy l'msx ms dos i game watch ehm l'intelli vision neo geo pocket pocket mini questi sono dei port quindi è una categoria a parte dove abbiamo altre tipologie vedete ad esempio duke collection ci hanno messo anche giochi attuali che sono fatti in retro qui è diverso come potete notare anche la le anteprime eccetera eccetera ehm poi abbiamo naturalmente arriviamo sempre agli stessi c'è anche la capo a bonga collection il virtual boy il vectrex lo zx spectrum insomma come vedete ci sono parecchia c'è parecchia roba in più diciamo rispetto a questo qui ehm in television allora vediamo se riesco magari a mettere un pochino meglio a fuoco perché poi giustamente muovendomi io la vabbè comunque poi naturalmente andate a vedere pure qua vi fate la vostra carrellata di titolazzi quella ehm eh sono molte sono console classicone eh molte sono console classicone vorrei cercare però di mettervi a fuoco in modo decente perché se no giustamente non vedete una sega e c'è quindi con l'union os ragazzi c'è tanta tanta roba in più perché è compatibile con eh con più emulatori semplicemente è compatibile con tanti emulatori in più la msx tra l'altro vedete ci sono anche delle categorie dove ci sono giochi moderni perché comunque continuano ancora a sviluppare per questi giochi e per queste piattaforme quindi ci sono anche vedi alcuni gli hack le rom hack con alcune eh tipologie di giochi modificate magari dagli utenti per cambiare qualcosina ce ne sono tante chi segue la scena dei retro conosce anche questo tipo di giochi ci sono quelli moderni che sono stati fatti perché continuano appunto a sviluppare su queste piattaforme anche sul sul comodo sul comodo escono ancora i giochi ogni anno escono altri giochi eh psx abbiamo naturalmente playstation 1 poi andiamo a vedere anche qualcosina per magari chi non ha visto il video o la live su quest'altra anche per vedere un po' come come girano e che mi avete detto di vedere television dove era dove era me lo so perso anche qui poi questi naturalmente sono il numero di titoli disponibili e poi voi ci mettete quello che vi pare poi naturalmente dovete sempre testare perché non sempre ad esempio per alcuni giochi ho visto che è un po' più complicato magari far partire qualcosa perché naturalmente per piattaforme che ne so l'amica era un pc quindi c'è la tastiera quindi dovete un attimino attrezzarvi per tutto altra cosa che vi faccio vedere sono per quanto riguarda allora che altro volevo vedere poi andiamo a vedere anche altre cose vabbè i settaggi ci sono i classici settaggi che potete andare a modificare magari se vi abbasso la luminosità vedete meglio forse sì le app onion os ha questo sistema dove ci sono delle app dove c'è il video player pdf reader eccetera eccetera c'è anche la ecco questa qua quella che vi dicevo vi va appunto a far vedere quelle che sono alcune caratteristiche dell'union os quindi anche se il libretto delle istruzioni è quello basilare in realtà qui c'è un pochino di informazioni su quello che è questo sistema operativo quindi vi fa vedere alcune cose che adesso andremo a vedere anche a schermo vi faccio vedere un po' di di cose in più anche perché qua giustamente voi non credo riusciate a leggere ma pure io mi dovrei avvicinare va bene comunque come vedete ci sono 50 e più sistemi verificati quindi la cosa positiva è che è più compatibile con tanta altra roba c'è anche il quick resume signori onion os ha il quick resume che poi andremo a vedere un po' come xbox cioè state giocando un gioco premete il tasto home andate a giocare a un altro gioco ve li tiene in memoria poi quando volete premete il tasto home e andate a riprendere la partita di dove eravate prima ci sono gli autosalvataggi se volete attivarli c'è una collezione di port per quanto riguarda i giochi 50 esperimenti core vabbè ci sono anche la modalità esperto dove ci sono core da provare per spippolare un po' di più poi c'è il package manager activity tracker che è un'altra cosa molto figa semplicemente vi ricordate il diario della della del ds che stava la wii pure cioè vi tiene conto delle partite che giochi avete giocato per quante ore quindi vi fa vedere un pochino un recappino e adesso lo andiamo a vedere ci si può cambiare il tema adesso li andiamo anche a vedere e tanta tanta altra roba queste sono alcune delle scorciatoie potete ad esempio con R andare avanti che ne so è un gioco che avete avviato già conoscete il filmato ci sono alcuni giochi che non volete vedere i filmati che sono troppo con R andate avanti velocemente il rewind ho provato ma non pare non funzionare granché se devo dire la verità e poi ci sono i salvataggi che poi andremo a vedere save slot mi sembra che lo fa poi naturalmente potete entrare in retro arc eccetera eccetera però qui sul sito generale vi fa vedere un pochino tutto quanto ora torniamo un attimino indietro perché vi faccio vedere appunto anche i temi che possono essere cambiati allora vediamo un attimo ebook reader activity tracker vedete c'è sostanzialmente il diario questi sono i giochi che ho giocato in totale due ore e dodici come detto è arrivata un po' vedete ed è una figata vi fa vedere i giochi che avete giocato di più i giochi che avete giocato per un totale ad esempio questo qua di 33 io ho spippolato un pochino di 33 minuti la sessione più lunga è di 33 minuti che è quella e quante volte l'avete giocato appunto una partita una partita questa qui quattro partite perché ho provato il quick resume quindi uscivo e rientravo uscivo e rientravo per provarlo eccetera eccetera vi tiene conto dei giochi che avete giocato ed è una gran figata secondo me questa ognuno è comunque è figo quindi anche se voi ce l'avete così eventualmente se volete provate provate poi 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 random game sostanzialmente cliccate e vi parte un gioco random parlavamo prima di curiosità nel videogiogiocare anche questa cliccate vi parte un gioco di una piattaforma di un'epoca sceglie lui a caso andate provate e magari scoprite un titolo che non conoscete anche perché come detto ce ne sono veramente parecchi poi vabbè potete andare a vedere potete registrare anche lo schermo se volete cercare nella libreria qui potete cambiare i temi adesso li andiamo a vedere un pochino i temi ce ne sono tanti anche qui li potevamo cambiare però qua ce ne sono discretamente tanti alcuni veramente molto fighi questo qua è quello di base che andremo a lasciare per il momento oddio in realtà anche questi così molto semplici sono molto fighi ci sono anche quelli un po' più complessi vedete tipo The Spider-Man bellissimo questo del Famicom in realtà ce ne sono una marea che potete andare a selezionare pure questo molto retro PC retro è figo e quindi qui potete andare a cambiare il tema della console ah no siamo arrivati alla fine dovevo andare prima e ce ne sono parecchi ce ne sono parecchi alcuni oddio per carità sono magari un po' più confusionari eccetera però però c'è veramente tanta tanta roba che figata pure questo Game Boy Style quello dei Simpsons insomma c'è c'è parecchia roba anche esteticamente potete personalizzarlo un po' questo è quello del Onion OS classico che abbiamo visto di qua grazie pane blanco grazie per i 56 grazie mille bene 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 è bellissimo anche questo di Dragon Ball che figata va bene comunque questi erano semplicemente i temi che potete andare a scegliere ok torniamo indietro e vediamo questo qua è un altro tema che abbiamo andiamo a vedere dietro com'è ah no siamo rientrati scusa ma diga open back in realtà io sto selezionando per vedere un attimino app settaggi console poi dipende naturalmente se tipo io preferisco i temi o i temi base o comunque qualcosa un po' più semplice tra virgolette un po' più quindi andiamo a rimettere aspetta rimettiamo un tema di di quelli canonici di quelli classici guarda pure questo che figata molto va bene comunque torniamo ai nostri più che altro perché il primo che abbiamo è quello di onion os classico se non sbaglio questo qui si ok mettiamoci questo si quel tema era un po' troppo confusionario io giusto per farvi vedere un po' lo stile però preferisco naturalmente questi un po' più semplici tornando indietro c'è esperta esperto poi la lingua è tradotta così dove potete usare questi altri sistemi dove potete spippolare un pochino comunque comunque adesso prima di andare a provare qualcosina vi faccio vedere un attimo una cosa ragazzi torniamo un attimo nella schermata per il semplice fatto che questo se riesco a rimettermi a rimettervi la schermatina ok aspetta che mi sposto un attimo la telecamera sui denti sul sito di onion OS comunque potete andare a vedere in maniera un po' più grande magari che riuscite a leggere anche meglio rispetto a quello che sta scritto qua le cose nuove che ci sono rispetto al sistema normale e anche qui in doc potete andare a vedere un'introduzione che vi fa vedere un pochino onion OS come è fatto come vedete c'è anche l'installazione per onion OS che sembra più complicato di quello che sembra ma in realtà non è particolarmente difficile però come detto matchdi la cosa è la cosa del sito di matchdi è buona per il semplice fatto che a parte il coso di acquisto che è semplicemente un'altra cosa molto semplice è il fatto che quello che vedete il prezzo è quello che pagate non ci sta né spedizione né dogana né niente è tutto inserito nel prezzo quindi con quei soldi è quello che è io non ho mai pagato la dogana o spedizioni per il semplice fatto che è tutto già compreso quindi è una cosa positiva e quindi perché diciamo vogliono quando comprate console diciamo cinesi del genere console ritro sapete che avete a che fare di solito sempre con siti che magari potete avere il problema la dogana la spedizione c'è qualcosa che non quadra match di ai io tra i vari che ho provato mi ci trovo bene per il semplice fatto che da quello che ho capito e da quello che vedo è che cercano di semplificare un po' il tutto per chi acquista anche si vede anche dal fatto di onion os onion os tu te lo puoi installare pure per conto tuo però ce lo mettono in più certo costa un pochino di più loro ce ne hanno pure guadagnato in qualche modo però comunque ti danno quella banale utilità del fatto che in tanti come detto pure nei commenti mi dico guarda io la voglio comprare senza starci a smanettare qualcuno nei commenti c'è anche che aveva problemi a metterci giochi perché non sa proprio come funziona però quella è proprio metti la scheda sd nel computer e ci sposti quindi quella è proprio banale però in generale molti la compramo perché vogliono magari quando vanno al lavoro sul treno sull'autobus a casa vogliono spippolare qualche gioco retro senza starci là sbattere la testa installare cose o spippolare a me piace anche spippolare installare cose cambiare altro eccetera però capisco che in tanti che comprano queste console non vogliono stare spippolare vogliono una console che costa poco che c'ha la possibilità di giocare a tanti titoli retro e bon e quindi questo vi dà la possibilità di farlo e vi dicevo match di eye onestamente mi ci trovo bene poi ci avete anche il codice sconto che poco di caffa va bene comunque qua vi dà anche il fatto dell'installazione volendo potete installarlo anche voi come dicevo se siete smanettoni quindi potete risparmiare quei 10 euro e poi 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 vi fa vedere un altro po' di cose arcade system vabbè qua vi fa dove era quell'altro del perché avevo trovato perché poi potete giocare anche lines per il ci stanno anche gli acive eccetera però avevo trovato un'altra cosa per quanto riguarda la guida dei comandi perché qui alcune cose ve le faceva vedere ma in realtà c'è ancora io non so dove l'avevo trovato vedete qua potete andare a spippolare un po' tutto potete andare a vedere ti fa vedere pure dove stanno ecco se ci volete mettere i giochi qua ti dice anche qual è l'emulatore dove sta la cartella le estensioni che vengono lette quindi se vi serve metterci qualcosa sopra potete anche andare a vedere qua ognuno s c'ha questo per il nintendo game and watch che ne so legge sto tipo di file quindi ce li potete buttare dentro nella scheda sd io però un'altra cosa volevo vedere box art è che adesso non ritroverò mai più l'avevo trovata l'altra volta che c'era la lista proprio dei comandi fatta fatta bene fatta bene dov'è che l'avevo vista scusate aspettate che può essere che me la so salvata da qualche parte perché il sito ha praticamente millemila cose e di conseguenza anche ritrovarsi eccolo qua ecco perché me l'ero salvato sul allora è in ah no perché l'avevo cercato qua quindi giustamente port blog about dove cazzo lo trovo scusa facciamo prima la schiena a fare così dove stava doc app non mi devi far vedere dove stava app perché lo dobbiamo trovare è proprio una cosa personale ah app qua va bene comunque le shortcut che sono molto molto infognanti se una 616 metto dei video mp4 li legge e allora fammi vedere music player c'era quello per leggere i video perché ad esempio qua c'è noi abbiamo cliccato qua activity tracker clock mannaggia la puttana dov'era allora aspetta vediamo prima le shortcut se no me le riperdo un'altra volta poi poi controlliamo anche le altre cose comunque queste qua sono quelle che venivano indicate anche lì ma ce ne sono anche di più ce ne sono anche di più perché se andate a spippolare qua ci sono una marea di combinazioni che vi permettono di avere tutto sotto controllo magari quelle che vi fa vedere là sono quelle più più semplici ma naturalmente poi avete la possibilità di salvare i giochi di caricare i salvataggi eccetera eccetera quindi questo ti fa vedere un po' in sintesi quelli che sono i comandi eccetera eccetera allora che volevo vedere per quanto riguarda i comandi menu va bene retro arc menu e select no così poi ce li proviamo così andiamo a vedere un po' di cose vedi anche per cambiare rewind questi poi li proviamo direttamente in game possiamo fare screenshot vabbè la luminosità ok si questi sono quelli più avanzati perché poi quelli di base ci stanno questi qua yes lo add e save con il tasto menu che è questo qui e r2 per salvare va bene questo anche per farvi vedere un attimino il fatto delle cose avanzate dell'union o s però o no s è tanta roba signori quindi con una consolina del genere onestamente ci sta ci sta bene ci sta bene torniamo shopim alla consolina e proviamo anche qualcosina il jack per le cuffie si io non vi ho fatto la panoramica della console signori perché più che altro l'avevamo già vista effettivamente l'ho dato per scontato ma non è da dare per scontato perché la console è questa qui c'è il tasto select start il tasto home classici tastini freccette nella parte destra è il lato pulito sostanzialmente nella parte sinistra invece abbiamo ve lo descrivo per il semplice fatto che in questa colorazione non si vede tantissimo però qua c'è il volume nella parte superiore c'è il led che vi fa vedere quando è carica e quando è scarica diventa rosso il tastino di accensione è stand by nella parte inferiore c'è l'ingresso usbc per la ricarica l'ingresso per la micro sd e il jack per le cuffie di conseguenza adesso giriamo un pochino il microfono vediamo se si sente poi qualcosina non lo so qua testiamo ma ho i miei dubbi forse qua dovevo tenere il doppio microfono allora andiamo a vedere qualcosa lato game allora vi faccio vedere diciamo il sistema più ultimo probabilmente che va a leggere che è playstation direi possiamo vedere qualcosina giusto per vedere un pochino come gira c'è castelvania symphony of the night c'è colin mccree rally proviamo colin mccree rally che è comunque un gioco di guida e ci sta il link punto esclamativo unboxing grazie pane blanco davvero ringraziato per i 56 mezza di sì mezza di sì e proviamo colin mccree rally 2 per il volume fatemi sapere se poi sentite naturalmente mo che partiamo vediamo qui c'è l'altoparlante è molto stile gameboy naturalmente anzi poi vi faccio vedere anche un pochino gameboy mamma mia questa intro ma ricordate mamma mia comunque il gioco è fluido allora io mi tengo i comandi sotto controllo in modo tale che ogni tanto ne provo qualcuno per farvi vedere allora menu x dovrebbe farci vedere gli fps eccoli qua così almeno vediamo anche come girano ricordate pal va bene 50 frame che adesso siamo abituati a pc cose varie ed eventuali ma noi abbiamo sempre giocato a 50 hertz allora italiano ce lo abbiamo vai rally proviamo rally stage singolo facciamo guarda principiante anche perché in realtà io non vedo perché la console ce l'ho qua però c'ho la telecamera cioè c'ho praticamente la camera che vedo metà schermo quindi facciamo principiante gioca come ospite vale va bene la fo mamma mia andiamo con la focus no andiamo con la lancer signora lancer è sempre stata la lancer l'audio lo sentite cambio automatico andiamo sereno vediamo un po' vai è più che altro perché col giustamente calcolate che l'ho messo al massimo per farlo sentire perché il microfono è lontano e non è fatto per attenzione cioè calcolate che per me così il volume è troppo alto però giustamente per farlo sentire con questo microfono aspetta così era la telecamera giusto piano piano attenzione però come detto signori questo per farvi vedere semplicemente ps1 come gira cerchio vai col freno a mano piano piano mamma mia attenzione qui c'è sempre franco che è successivo grande mi stupisci piano 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 tiralo madonna santissimo aspettate comunque comunque aspettate un attimo perché nel mentre nel mentre andiamo a vedere come con il tasto home più r2 dovrebbe salvare vediamo un attimino se ah no r2 giustamente se non lo premo vedete qui sotto c'è saving o per dire andiamo con continua premo home l e carica la partita quindi scorciatoie canoniche scorciatoie canoniche che sono sempre una gran figata c'è anche dovrebbe funzionare anche il tasto per andare con ah no giustamente qua quelli vanno per altre cose perché qua r si usava c'erano i grilletti giustamente e allora che altro possiamo vedere ci dovrebbe essere il tasto start e select per andare in non so se qui in realtà c'è giusto dov'era no menu e select per entrare in retro arch che è l'emulatore cioè il quello che fa girare insomma il tutto e quindi qui possiamo andare a vedere un po' di cose sia i salvataggi i controlli discontinuali vabbè latenza rewind override information quindi possiamo andare a modificare un po' di cosette eventualmente quindi possiamo andare a cambiare vari settaggi vedete insomma questo per entrare appunto in retro arch o retro arch chiamatelo come volete vedete il core che viene utilizzato e poi 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 vediamo che altro abbiamo configuration file setting possiamo andare a settare i cosi video anche se gira già bene però se volete potete anche andare a modificare altre cose video filter vedete potete poi successivamente mettere anche ad esempio altri filtri ma qua non ce n'è la necessità ma che ne so giocate col gameboy advance potete mettere il filtro del gameboy advance tempistiche di spedizione a me in realtà più o meno sono sempre arrivate in circa una settimana massimo dieci giorni qualche volta che c'è stato un po' di ritardo però più o meno quelle erano le tempistiche per il momento sono sempre stati molto veloci stranamente veloci perché di solito quando ordino queste console me le aspetto dopo un mese minimo invece qua on screen display quindi possiamo andare a mettere cose l'overlay eventualmente se volete potete mettere vari overlay che sono quelli che vi fanno vedere i bordi insomma vari ed eventuali e questo è quanto quindi questo vabbè poi ci stanno come detto l'abbiamo visto prima una marea di comandi stavo cercando di vedere se c'era qualcosa di particolare ah un altro che possiamo andare a vedere è allora facciamo no vabbè facciamo così vedete adesso siamo nel menu quando clicchiamo con il tasto home possiamo riprendere il gioco che al momento è comunque nel vedete allora con aspetta che avevo visto aspetta menu e start allora menu e start la vabbè questo non funziona tantissimo con questo però vi cambia la l'aspect ratio che in questo caso vedete poi ve lo gestite voi come volete però secondo me di base ve lo mette giusto per la console scusate la batteria dura una madonna dura oddio non mi ricordo se rivedete sul sito però di queste qua durano veramente tanto poi dipende a quello che ci giocate naturalmente giochi ps1 magari consumano un po' di più quindi ci fate 5-6 ore se giocate i titoli che ne so NES ci fate pure 8-9 ore ma anche di più dura parecchio dura parecchio la batteria io per dire sta anche col volume al massimo insomma dipende un po' come la utilizzate ma parecchie ore parecchie ore non come le portatili normali di adesso perché queste giustamente fanno girare anche roba molto leggera e consumano poco consumano veramente poco comunque vi dicevo qua il quick resume noi adesso andiamo qui premendo il tasto centrale che appunto è il tasto menu andiamo in questo sistema così se noi invece lo premiamo direttamente due volte da qui in linea teorica dovrebbe andare se mi ricordo bene o forse no sai che non mi ricordo no se esce e rientra se facciamo così ok noi il quick resume semplicemente premendo il tasto centrale e poi andando uscendo uscendo dal gioco torniamo qui andiamo in vediamo vediamo qualcos'altro allora prima che mi avevate chiesto che piattaformina volete vedere tanto per tanto per ah no vi voglio far vedere anche qualcosa del gameboy per il semplice fatto della cornicina è una stupidaggine però ah tra l'altro anche qui abbiamo naturalmente una marea di giochi vari ed eventuali anche con miniature eccetera eccetera poi ci sono anche nella parte superiore ci sono delle cartelle con mio collection vedete magari i giochi che hanno scelto loro adventure island fighissimo ce l'ho per snes c'è aladin eccetera eccetera ci sono anche alcuni titoli moderni perché come detto anche per gameboy continuano ad uscire alcuni titoli e vi dico solo una cosa restate sintonizzati e traduzioni traduzioni in linea generale sono traduzioni di giochi dal giapponese al all'inglese sono titoli che probabilmente momotaro thunderbolt tipo questo qua che fai non lo provi poi andiamo a vedere no playstation 2 no aspetta aspetta questo mi sa che l'avevo già giocato vi posso far vedere una cosa tra l'altro guardate la cornice vedete il classico questo è l'overlay gameboy pocket poi naturalmente come prima possiamo andare a modificare le proporzioni però quello base è una figata perché vi fa proprio la cornice del gameboy è la stronzata però signori che ve devo dire è una cosa molto figa tutto qui volevo farvi vedere solo questo di questo gameboy poi 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 in television non l'ho mai provato il collego vision cosa abbiamo jumpman junior che in linea generale era riprendeva sostanzialmente super mario donkey gong qui andiamo molto sul retro però vedi una cosa particolare anche di questa console è il fatto che ci sono anche console molto molto retro allora qua in questo caso se non sbaglio possiamo partire press 0 qua dobbiamo capire come funziona non conosco il gioco quindi non ho la più pallidità ah io sono questo ok e non credo fosse quello che dovevamo far stiamo morendo malissimo siamo spiaccicati a terra il calcio su commodore lo collego in television ma c'è stava perché io onestamente non lo so se ci stava l'avevi visto se c'era in television perché dobbiamo anche capire se c'è stava io mi sa che non l'avevo visto c'è anche il si poi andiamo a vedere qualcosa sul commodore msx c'è l'ms dos tra l'altro tra l'altro no uno per ognuno non ce la facciamo ah in television eccolo qua si non l'avevo visto scusate cioè l'avevo visto ma non ci avevo fatto caso qui vabbè ci sono anche grandi classici burger time burger time è da provare stadium donkey kong questi sono diversi titoli che ho visto anche su nintendo si nintendo su commodore 64 burger time andiamo questo lo vedi qualcosa allora burger time se non mi ricordo male noi dobbiamo camminare in modo tale da far scendere gli ingredienti e formare il panino aspetta che cerco di mettere a fuoco questo è dell'82 vediamo se riusciamo a partire come left right ok mi scusi ah vedi però c'è difficoltà di right action quindi come a conti fatti si può partire oddio aspetta che in television non ho mai provato quindi non so neanche che cosa dobbiamo premere per farlo andare non va in stand by da solo ho allungato i tempi si può andare in stand by da solo io l'ho disattivato lo stand by in realtà per questa qua che vedete ancora qui no perché almeno poi nel senso per carità non sta facendo niente però vedete le batterie non vedete un cazzo perché non mette a fuoco però sta lì per il semplice fatto allora fatemi capire ho selezionato uno come parto ma posso eh perché io l'in television non l'ho mai utilizzato quindi giustamente per alcuni non so neanche come cazzo funziona cosa ti ti appare scusate voi pratici ok left action button si ma a parte questo show keypad e l'abbiamo fatto però se noi facciamo anche questa cosa è per scegliere i player e poi per andare avanti ah questa è la mini tastierina molto mini tastierina allora noi siamo questo cuoco naturalmente dobbiamo stare attenti a quelli lì e noi dobbiamo cercare no non così vedi così facciamo cadere il panino noi dobbiamo cercare di farlo il panino senza che quelli ci inchiappettino noi possiamo però schiacciarli ah ho sbagliato ok vediamo abbiamo fatto punti perché abbiamo schiacciato quello nel panino qua dobbiamo fare così far scendere far scendere questo per andare a formare i panini naturalmente più avanti si va più sarà difficile l'obiettivo per fare anche più punti è quello di far capitare questi all'interno del panino così quando li vedi immoli quelli li abbiamo schiacciati abbiamo fatto punti cazzarola aia no ecco vedi quello ci ha fregato mentre stava a fare l'altro paninazzo incredibile straordinario vedi c'è rimasto questo qua di panino da fare no dove vai sei un imbecille ok caduta quella no no ho sbagliato tantissimo aspetta mi stanno inseguendo altri ingredienti signori vedi la curiosità ma voi immaginatevi immaginatevi il bambino curioso all'epoca che andava e trovava queste chicchette ma di cosa stiamo parlando e noi ma non ci sono parole dai è pronto l'ultimo panino cazzo oh abbiamo fatto i tre panini bravi tutti straordinario straordinario ok eh questi poi qualche volta ci dobbiamo fare una mega serata comunque con queste chicchette stratosferiche allora l'intellivision poi possiamo poi proviamo anche qualcos'altro allora abbiamo anche il siga genesis con le varie traduzioni genesis pure tanta roba eh io vorrei recuperarle le console siga vorrei recuperarle vogliamo andare a vedere msdos msdos io però qui per forza di cose devo andare a prendere eccolo qua prince of verse a 2 per dire prima stavo dicendo delle problematiche però prince of verse sia uno c'è no per dos c'è poca roba in realtà benchmark moderni mario e luigi eh perché poi hanno fatto anche dei vedi pure mario e luigi questi sono alcune rom anche rifate di tria castello viana non saprei ma alcuni avrei anche paura a farli partire e allora proviamo sto prince of verse a 2 signori dune duke nukem giusto per pinball vai questo è del 93 signori vediamo sto prince of verse a 2 allora naturalmente questo è in versione ms dos quindi naturalmente è un po' più complicato da far partire credo programma xe setup xe under microsoft windows questo è windows non ti preoccupare prince xe sì perché si faceva così c due punti prince xe no però io questo me lo ricordo mi ricordo questo inizio un flashback inizio difficilissimo questo perché non ho mai capito se era possibile fare qualcosa ok sì è possibile fare qualcosa quindi il secondo prince of persia credo che parta dopo che ti sei bombato la principessa e devi scappare da no non era così la trama credo e ok che va eh escape to play insomma anche meno no volevo semplicemente togliere la la spada c'è un modo per ecco ecco su dos magari il sound era un po' così no perché è ripartito da capo aia vaffanculo aspetta con quale violenza senta senta ma io devo andare avanti così io non credo non c'è un modo per rimettere la spada a posto sapim con quale violenza scusa eh possiamo aspettano questo sap aia vaffanculo stronzo ah vedi con il tasto home ho cliccato ok c'è la tastiera del dos noi andiamo indietro però aspettate signori perché abbiamo visto cosa ho cliccato no torniamo indietro mi scusi abbiamo visto ms dos game gear c'è tanta roba allora rimanendo in tema abbiamo su nes dovrebbe esserci anche qualcosa anche qua c'è il mio collection che porco due per nes ci sono no stavo leggendo qua signori che non so se voi vedete 341 questi qua però se entri nella categoria della selection mio che non è così così invece cerchi il gioco che è comunque una cosa molto utile ah io devo tener conto pure della batteria della camera perché avevo previsto solo che faceva una cosa veloce sì il fuoco se n'era andato di là perché questo è dinamico è stronzo più che dinamico no eravamo in nes vedete pazienza e se andiamo in mio collection 3800 eccessivo direi di sì però come detto c'è la possibilità di andare con modern 64 molto bene cerchiamo cerchiamo e andiamo con vediamo se qua mi trova prince of persia bene solo prince 71 giochi ma 71 in totale o del nes ah vedi bello pure ecco questa è una cosa che non avevo ancora provato per conto mio sostanzialmente la ricerca del gioco non solo te lo trovo ma ti dice ne ho trovato uno per amica per amstrad per commodore per game boy game boy advance vedi così ti puoi giocare anche che ne so il prince of persia immagino che abbia cercato o trovato per le varie console ad esempio prince nel nes ne ha trovati vabbè ci sono anche banana prince che non non saprei però però su msx ce ne stanno due che è princess maker e prince quest ms dos prince of persia in television princess lady poi vabbè magari se metti il titolo generale te lo trova preciso questo cos'era per il siga genesis c'era prince of persia prince of persia europe per il game boy color xenia warriors game boy advance ok in realtà anche per game boy c'era prince of persia se dobbiamo dirlo infatti c'è prince of persia e prince of persia le sabbie del tempo questo è il game boy advance per game boy normale legend of prince valiant c'è il prince of persia per game boy anche per commodore eccolo qua il prince of persia originale amstrad stessa cosa amica c'è anche per amica ecco su commodore vogliamo provare forse sarebbe più commodore però andiamo per commodore perché commodore naturalmente essendo un pc ha tastiera e altro quindi non so se parte facilmente o se c'è più problematica nel far partire poi andiamo a vedere anche direttamente qualcosa del commodore start game no ok quindi te lo darò già partito credo poi si accettano anche altre votazioni cioè votazioni se volete vedere qualcosa oh per chi prince of è questo prince of persia devo togliere qualcos'altro perché se no mi va il focus faceva figo l'altra qui ma no in realtà proseguiamo ancora per poco perché questa qua non l'ho attaccata alla batteria e abbiamo un 30% di batteria della non della console della videocamera quindi allora vediamo un attimo i tasti questo per andare piano qual'era quello per saltare penso la freccina allora così andavo piano giusto allora così corri piano piano questo è prince of persia signori ne vogliamo parlare dovrebbe saltare con la freccina yes qua hai 60 minuti per salvare la principessa 59 adesso piano 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 ok ecco qui ha rallentato un pochino poi dipende anche dalla versione è una cosa che vi ricordo è che qui se non sbaglio c'era ecco una pozione cina che a noi non era necessaria però mi ricordo che c'era molto spesso calcolate che poi dipende pure dai giochi che ci buttano dentro nel senso non sempre può capitare anche una rom problematica un semplicemente un gioco messo che non va granché quindi magari lo stesso gioco lo rimettete voi una versione che avete sapiamo si quando cadono le cose e questo è quanto signori anche qui potete andare insomma a fare il tutto con il tasto home naturalmente come sempre ritornate qui e una cosa una cosa che vi dico è anche questa noi abbiamo fatto questa cosa della ricerca però è molto molto diciamolo molto molto torniamo nella home qui premendo il tasto centrale vedete Prince of Persia Prince of Persia vedete c'è il quick resume clicchi il tasto resume e ne vogliamo parlare anche questa è una cosa estremamente sportiveggiante cioè basta cliccare con il quick resume vai e ti ripigli il gioco che stavi facendo vabbè adesso io sto vedendo la gamma per vedere le cose però questa è una gran figata signori questa anche è una gran figata o no poi naturalmente qua se volete potete anche andare a cliccare con x per vedi te lo toglie dal dal quick resume in linea generale forse l'ultimo ti lascia ok però se adesso noi appunto torniamo indietro e andiamo qui in linea teorica ok abbiamo liberato il quick resume grazie arcangelo grazie per i 39 grazie mille allora allora andiamo a vedere andiamo a vedere spectrum vediamo un pochino cosa c'è c'è lo spectrum mi sembra di sì ci dovrebbe essere date proprio retro attenzione mega duck però vedete la cosa figa è anche il fatto di poter provare tipo il pico 8 non conosco spec dovrebbe non so se questo è lo spectrum no questo qua questo dovrebbe essere lo zx spectrum ci sono anche quelli moderni perché come detto continuano a uscire titoli per queste piattaforme allora vediamo rainbow island vediamo se c'è qualcosa eh io non tutte le console naturalmente conosco quindi devo andare molto a volte a fiducia allora midnight resistance vediamo target renegade vediamo qualcosa del genere lotus e sprint turbo challenge andato andato poi ci vediamo anche qualcosa per snes però eh perché snes la regina signori senti poi i sound una volta con pochi bit ora press start ah vedi qua spectrum tastiera quindi noi dobbiamo premere aspetta che devo premere per andare a start fire no ah no la fire è questo ah era questo qua dietro oddio che devo fa cioè dovrei guidare questo potrei capirlo però come come funziona scusa c'è un problema non sono io a guidare ma stiamo guidando scusa si allora visto che stiamo andando fuori strada si stiamo guidando noi però non non so come funziona il destra sinistra sto provando naturalmente le freccette ma apparentemente non non è d'accordo mi scusi vabbè qua ci sarebbe anche da vedere sì sì certo che si possono aggiungere basta che togli la scheda sd la metti nel nel pc e ci metti quello che vuoi vabbè diciamo che da rivedere mi scusi c'è anche la vibration comunque non so se avete sentito adesso che si è credo impallato tutto però in questo caso credo che si sia impastato anche se funziona cioè io cliccando questo questo dovrebbe andare in stand by forse c'è modo di recuperare la situazione mi scusi cioè funziona funziona nel senso va in menu secondo me è proprio edit cazzo funziona mi scusi facciamo così va facciamo direttamente così close content dov'era core direi di no facciamo un'anno questo lo chiudiamo mi scusi perché abbiamo delle problematiche proprio utilizzabili questo c'era da capire e allora Tic 80 scusa vogliamo vedere qualcosa che ne so un Rilinx DS scusa Nintendo DS che è un po' un po' problematico però un po' particolare come emulazione no ok Mario Bros tanto per tanto per ok il DS te lo fa in questo modo ma credo che si possa comunque andare qua poi naturalmente c'è da rivedere un attimino anche le varie combinazioni perché qua immagino che si possano anche invertire vedete ecco vedi questo con R2 inverti due schermi vedi così almeno in modo semplicissimo ti metti in primo piano quello che ti ti serve in questo caso vedi così è lo che questo è lo schermo piccolo basso beh fatto pure bene pure l'overlay questo per dare un'occhiadina molto veloce ok no ero curioso di vedere un attimino il DS come funzionasse il tutto però è figa anche questa cosa che questo forse non va fluidissimissimo fammi vedere allora come si mettevano i frame menu x no forse questo no no non ha tutti allora no perché questo non è retro arc in realtà probabilmente però si questo qua vi posso dire che non è non è fluidissimo fluidissimo ok però era giusto per vedere come come andava come andava possiamo uscire da qui da qui da qui una snessata ci sta signori e poi qualcos'altro retro retro allora andiamo a vedere sness signori sness c'è anche neogeo attenzione neogeo pure c'ha uno stile una grafica spettacolare oh sness abbiamo 363 poi ci sono traduzioni dai giochi giapponesi dragon quest che ce ne sono anche alcuni molto fighi e particolari clock tower quelli moderni che sono anche delle mod sostanzialmente ah qualcosa di questi ho provato sì perché giustamente roba sness che fai non la provi per forza until night mio collection bene 1400 ce ne sono onesti onesti animaniacs però questo dai giusto siamo alla però va bene il tutto era per un breve unboxing tanto per vedere un attimino la consolina e niente poi ci ritroviamo a fare del retro gaming estremo che non è proprio la situazione migliore perché c'è il microfono qua delle camera in fronte e quindi allora opzioni vediamo un attimo cosa abbiamo dash va bene i tastini vabbè poi andiamo anche abbastanza a caso l'importante è testare vedi con il tasto menu l1 andiamo avanti velocemente magari se vogliamo andare avanti con la cazzina insomma che vogliamo andarci a buttare come se non ci fosse domani e in teoria al contrario dovrebbe andare indietro ma in realtà non lo fa effettivamente perché come fa mo sto andando avanti io se sentite un po' l'audio strano cioè quando c'è questa scritta significa che sto schippando avanti velocemente virtuale non lo so onestamente devo vedere devo controllare no ma il fatto sapete qual è allora indipendentemente da tutto questi oggetti qualche giorno ci faremo una chiacchierata anche su una valutazione su questi oggetti perché ad oggi signori di tante di queste console che avete visto e state vedendo magari questa un po' più recente snes eccetera però inizia ad essere veramente difficile cioè un giorno scompariranno tutte queste console e anche se voi avete i vostri giochi origine o ricarica cioè preso perso e ce l'ho qua però tante cose andranno perdute c'è purtroppo al giorno d'oggi difficilmente vengono ripresi determinati titoli riportati su piattaforme attuali o altro magari sì qualche volta con il coso nintendo insomma il nintendo online insomma qualcosa c'è ma non tutto cioè si rischia di perdere comunque tante opere tanti media che che è un peccato che si rischia insomma di perdere tanti e tanti giochi come la scassiamo questa scuse qua nel mentre sto facendo un attimo randomico ma c'era un tastino per immagino di sì ah con quello ok me l'ho lanciato là mi scusi quindi sono anche un modo per eh tra virgolette preservare preservare quella che potrebbe essere la perdita di tante opere che al momento sono difficilmente recuperabili e un giorno saranno difficilmente utilizzabili se uno non si ricorda solo il nome si ricorda solo il nome del gioco ma non quello del sistema c'è una ricerca che mi può aiutare eh te l'ho detto giacomo come abbiamo fatto prima tu prima hai mai chiesto virtua tennis e come avevamo fatto prima cercando che non mi ricordo come avevamo fatto in realtà vediamo se mi ricordo con x si con x premi il tastino quando sei nel menu dovunque sei oddio virtua tennis in realtà non non so fai la ricerca metti ok cerca rob vediamo cosa trova e ti esce tutti vedi per tutti i sistemi in arcade che cosa ha trovato in gameboy advance tipo in arcade ha trovato virtua fighter in gameboy advance ha trovato amazing virtua virtua tennis virtua tennis virtua gas parov in genesis alien soldier virtual console in realtà monster world virtua fighter virtua bart virtual pinball nes virtual probabilmente per virtual console infatti tipo questo qua de saga we virtual console we virtual console quindi sono le versioni di super mario che erano su virtual console quindi solo quello e però è molto comoda come cosa gpsp expert ha trovato virtua tennis che in realtà è quello del gameboy advance quindi virtua tennis in questo caso è su gameboy advance ti trova cose comunque ti trova cose parecchie in realtà poi dipende quello che è allora amica amica sensible soccer tarricane pure altra chicchetta ci sono anche quelli moderni allora anche qui l'amica chaos engine l'avevo provato tarricane sensible soccer ah prima ah prima tazuma il calcio per commodore va bene uguale amica sempre se parte perché comunque l'amica come detto c'è il il fatto che essendo pc c'è da considerare una tastiera che è questa qui con select in realtà andate nella tastiera quindi potete fare cose però siccome l'amica non l'ho mai utilizzata e quindi non so come funziona non so se parti direttamente il gioco o devi inserire qualcosa però vediamo apparenti ah no partire parte apparentemente dovrebbe farlo da solo senti ma questa me la puoi tenere fissa qua il fatto del focus capisco che è uno schermo ed è difficile da tenere sotto controllo però senti il sound copyright è possibile facciamo una friendly no qua cambio questo come seleziono con questo ok vabbè famo proprio random club europa eh io mi ricordo che sensible soccer era una figata per il fatto che c'era una madonna di squadre serie A inter milan o inter o milan scusa lo so che è internazionale di milano però metti AC milan siamo di milan signore e no no va bene va bene posso devo scegliere l'avversario facciamo un derby giochiamo l'amichevole allora questa è la nostra formazione attenzione sebastiano rossi in porta panucci franco baresi costa curta e paolo maldini donadoni albertini desai lentini savicevic e melli poi tassoni boban simone massaro in panchina ti dice anche i prezzi dei cartellini dei giocatori ok sandro mielli insomma un po' così non ci ho mai saputo giocare a sensible soccer eh le hanno non Tazum non mi sembra il caso di fare delle olimpiadi spacca joystick a parte all'orario e poi spacchiamo tutto in realtà mi ricordo solo che a sensible soccer c'era la possibilità di fare quel tiro ad effetto clamoroso che io non sapevo naturalmente fare perché io ci giocavo solo a casa di un mio amico che è Antonio oppela e e quindi non ho non ho mai capito il meccanismo proprio di gioco ma c'era un tiro effetto clamoroso che si poteva fare cioè in realtà tutti i tiri di sensible soccer sono ad effetto clamoroso scusate lo so che ogni tanto si perde il focus ma se ne va proprio per conto suo come cazzo si tira madonna santa tesissima vai portier passare così niente ci stanno no è noiarida così proprio all'attaccante mica si fa così eh però io qua devo capire invece come allora quello era per la scivolata e per il passaggio io ho capito solo che questo è per scivolata passaggio proviamo a premere gli altri tasti però il tiro mica l'ho capito cioè per carità non sono arrivato una volta a fare team ma manchi mi stanno a falciare cazzo cattivissimi madonna è tostissimo aspetta che ho premuto eh non lo so qua ah no andiamo la tastiera aspetta ok con questo cosa facciamo perché magari pure quelli dietro servono aspetta fammi fare una prova se riuscissi a piavare la palla magari mouse ah no aspetta ok ah allora essendo su su che stavamo qua una mica con il i dorsali vedete la barra sotto che esce ti fa vedere cosa stai selezionando in questo caso tipo le freccette con quest'altro mi aveva fatto vedere prima tipo il mouse avevo visto che era un po' pappato ma non sono sicuro come era uscito prima il mouse non lo so no così ci sta facendo vedere la risoluzione e i tasti che premiamo vedete qui sono i tasti che sto premendo che è una cosa diciamo per controllare eventualmente cosa stiamo facendo qualora ce ne fosse necessità ma stiamo facendo cagare quindi non ce n'è strettamente necessità diciamolo se tolgo questo e premo questa prima mi era uscito il coso del mouse però non so come ho fatto scusate con questo e select andiamo sempre nel menu dell'emulatore questo è start cambiavamo la risoluzione va bene ok va bene signori qua però andiamo per le lunghe quindi signori direi che questo è tutto per questa serata dovevamo solo provicchiare però poi io mi infonio con ste cose mo l'abbiamo fatto così in modo abbastanza veloce randomico però giusto per farvi vedere che per l'appunto hanno messo anche la la versione con onion os comunque siamo al 66% di batteria quando siamo partiti non mi ricordo a quanto stavamo però vabbè abbiamo usato anche con la volume a pressione provato un po' di robe qua e là però comunque dura parecchio entrambe sia l'una che l'altra quindi come detto la versione con il sistema operativo base va benissimo ci mancherebbe altro ma vista la poca differenza se volete date un occhio anche alla versione con onion os oppure se ci avete questa lo dico anche per chi magari ha già acquistato questa qua o altro che poi questo ve lo riporto anche sul canale la parte di live provate ad installarci onion os voi fate una cosa prendete la micro sd che avete nella vostra versione base la togliete seguite le indicazioni per installare onion os su una micro sd normale mi sembra che ci sia anche un requisito per l'unico requisito probabilmente quello di vedere il il coso il coso è installato il sistema dove davis info andate a vedere se avete quale eventuale coso operativo siete arrivati se dovete aggiornare qualcosa poi naturalmente anche qui stessa cosa si possono anche aggiornare se si può aggiornare il tutto potete collegare il wifi eccetera eccetera e quindi potete anche tenerlo aggiornato anche qui informazioni dispositivo ti dovrebbe far vedere un po' di cose varie ed eventuali comunque comunque signori come detto sul sito di my2di questo qui trovate le varie consoline sia queste che altre però l'union os veramente su questa su questa qua fa tanto fa tanto perché aggiunge tanta tanta roba nuova nel senso che ci sono a parte tante impostazioni perché è più comodo anche magari utilizzarlo durante la partita magari che ti tiene i più giochi in corso d'opera per quanto si possa salvare e caricare normalmente anche nell'altra ma l'union os devo dire che è un bel passo avanti io con questa qua e con il sistema mio mini che sia plus o mio mini normale che è quella ancora più piccolina mi sono trovato bene però adesso che sto iniziando a utilizzare avete visto che quando siamo partiti un paio di ore te l'avevo usata adesso anche nell'arco della serata abbiamo visto alcune cose che giustamente dovevo scoprire ancora anche io anche il fatto della ricerca che te la fa per console e quant'altro è una figata quindi onestamente è molto molto comodo dateci un occhio come detto il sito lo trovate con .scarativo unboxing oppure quando vi riporterò il video ci sarà il link in descrizione che c'è lo scontino QTA anche per le altre console altre cose quindi insomma date un'occhiata se vi fa piacere se volete esplorare scoprire qualcosina di retro potete farlo scontato ok